Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando di vaccini. Sono previsti rallentamenti per le vaccinazioni in Abruzzo, soprattutto per chi deve ricevere la seconda dose, lo ha detto l'assessore alla sanità Nicoletta Veri in riferimento alla vicenda riguardante AstraZeneca che ora non sarà più somministrato a coloro che hanno meno di 60 anni. Paolo Renzetti. Scorte di vaccini fino a domani bisogna fare presto, così l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri questa mattina a Pescara che dopo lo stop anche in Abruzzo della somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 chiede al governo di risolvere le problematiche in essere per non rallentare nella nostra regione la campagna vaccinale. Questa interruzione della somministrazione del vaccino AstraZeneca anche nella nostra regione ha creato delle difficoltà, delle difficoltà perché dobbiamo riorganizzare tutto il programma che avevamo messo in atto. Noi stiamo seguendo le linee del Ministero, le linee del Comitato Tecnico Scientifico, proprio oggi ho indetto una riunione con le ALS dove andremo a definire in maniera dettagliata la riorganizzazione ALS per ALS. Ad oggi gli indirizzi che ci sono è che per la seconda dose bisogna dare un vaccino eterogeneo, quindi diverso dal precedente. Aspettiamo ulteriore direttive, in ogni caso abbiamo delle dosi sufficienti fino a domani, chiederemo altre dosi, ma soprattutto stiamo continuando una campagna vaccinale che ci vede ancora tra i primi posti a livello nazionale e quindi in attesa di quella che è un'evoluzione e parallelamente una rimodulazione del nostro programma. Ritardi dovuti alla mancanza di dosi di vaccino, perché noi abbiamo una programmazione in atto, abbiamo già modificato la piattaforma poste e quindi abbiamo solo bisogno di vaccini, ma soprattutto dare quella sicurezza ai nostri corregionali che forse questo è l'elemento più importante in questo momento. Può prenotarsi quelli che hanno diritto ad avere la seconda dose, ma loro sono già in elenco, ma soprattutto si possono prenotare coloro che ne fanno richieste, che sono quelli prima dei 60 anni con dosi diverse da AstraZeneca. Per i tempi siamo ancora in attesa di questi indirizzi, noi continuiamo con la nostra programmazione che ci vede ancora conforme a quello che è stato un nostro programma, adesso verifichiamo giorno per giorno. E ora alla cronaca, stava spingendo a mano il motorino, rimasto in panne quando è stato investito da un'auto, un impatto fatale, così è morto la scorsa notte a Corropoli, nel Terramano, un ragazzo di soli 16 anni. Alla guida del veicolo che procedeva nella stessa direzione, un 24enne, il 16enne è stato sbalzato fuori dalla sede stradale, a nulla sono serviti i tentativi del personale del 118 di rianimarlo, sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione per i rilievi del caso, il conducente dell'autovettura è risultato positivo all'alcol test, seppur nella fascia amministrativa, ed è stato denunciato ora per omicidio stradale, è stata inoltre ritirata la patente, la salma del 16enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero, sempre in provincia di Teramo. Cambiamo argomento, tutto come ipotizzato in casa Brioni nell'incontro svolto in modalità online, è stato concordato l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per crisi, nella stessa riunione l'azienda del più famoso marchio di moda ha confermato l'esubero di 321 dipendenti. Stefano Recanati. Si fa sempre più delicata e preoccupante la questione Brioni, dopo i tavoli tecnici per evitare gli annunciati esuberi di 321 lavoratori nei tre stabilimenti siti in area vestina e la fine del blocco dei licenziamenti da parte del governo, questa mattina si è tornati a parlare del marchio di moda maschile francese presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante l'incontro svolto in modalità telematica si è concordato l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per crisi che coinvolge tutti i 1014 dipendenti di Roman Style. Durante l'incontro l'azienda ha confermato l'eccedenza di 321 dipendenti e provvederà all'anticipo dell'indannità di cassa integrazione che va a sostituire così la cassa Covid in scadenza a fine mese per tutto il periodo richiesto che andrà dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. L'ammortizzatore sociale sopra citato potrà essere utilizzato collocando il lavoratore in cassa integrazione straordinaria parziale ed anche a zero ore lavorate. Presenti al tavolo oltre al Ministero del Lavoro Confindustria Chieti, l'azienda Brioni e le organizzazioni sindacali nazionali e locali. Proprio quest'ultime hanno ribadito ai vertici aziendali e al Ministero di non procedere con azioni unilaterali, ovvero portare avanti delle soluzioni atte a non mettere in ginocchio ancora di più il tessuto socio-economico di un'area già fortemente colpita dalla crisi negli ultimi anni. Pescasseroli è il comune abruzzese più indebitato pro capite e in termini assoluti invece è Pescara la città che deve restituire più soldi. Manca però il dato di Chieti dove è stato dichiarato il predissesso finanziario. Considerato il numero di abitanti Pescasseroli in provincia dell'Aquila è il comune abruzzese che paga più debiti e mutui, ben 448 euro pro capite ogni anno, seguono altri due centri dell'Aquilano, Cappadocia e Carapelle Calvisio e quanto emerso da un monitoraggio della fondazione Open Police che tenendo conto anche di rateizzazioni e tassi di interesse ha analizzato la spesa delle amministrazioni comunali dedicata al debito pubblico. In termini assoluti è Pescara la città più indebitata d'Abruzzo, il capoluogo adriatico deve restituire quasi 16,3 milioni di euro che però si traducono in 136 euro per ogni cittadino. Seguono seppur con distacco l'Aquila indebitata per 4,4 milioni e Francavilla al mare con quasi 3,7 milioni. Tre capoluoghi di provincia inoltre Teramo indebitata per quasi 2 milioni di euro mentre il dato di Chieti presumibilmente il più importante d'Abruzzo è mancante. Il capoluogo tetino infatti dovrà pagare 56 milioni di debiti. A fine dicembre scorso è stata approvata dalla maggioranza del sindaco Ferrara la dichiarazione di predissesto, un provvedimento che dovrebbe consentire all'ente di applicare misure per ripianare il disavanzo e scongiurare una prospettiva ancor peggiore, quella del dissesto finanziario. È stato poi approvato il piano pluriennale di riequilibrio finanziario per un importo di 78 milioni di euro che dovrebbe portare a una rimodulazione delle tariffe e delle aliquote senza raggiungere i tetti massimi e di accedere al fondo di rotazione di 15 milioni per finanziare la spesa corrente. Nel rapporto però Open Police precisa che l'indebitamento per le amministrazioni pubbliche non è necessariamente un fatto negativo, contrarre mutui o prestiti infatti per un ente locale può significare anche la volontà di investire su infrastrutture. Per legge i comuni possono indebitarsi solo per gli investimenti e la costruzione di rilevanti opere pubbliche, ma non per le spese correnti come quelle relative al funzionamento della macchina amministrativa o all'erogazione dei servizi ordinari nei confronti della cittadinanza. Contrarre debito inoltre nell'economia neoliberista è un metodo sempre efficace per ottenere immediata liquidità. Presentata questa mattina a Teramo la rete Unico Gran Sasso, un nuovo modello organizzativo per il rilancio economico dell'area del cratere sismico abruzzese. Ne fanno parte 22 comuni appartenenti a tre province con una popolazione di circa 90.000 persone. All'evento ha partecipato anche il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Lennini, il servizio è di Tania Bonici Castelli. Come rilanciare e valorizzare l'area del cratere sismico abruzzese? Come trasformare una visione in realtà? La risposta è nella costituzione di una rete di 22 comuni sferzati da terremoto e alluvioni che si estendono su tre province dell'Abruzzo con una popolazione di 90.000 abitanti. Questa nuova rete si chiama Unico Gran Sasso e si appresta a rispondere alle esigenze delle aree interne attraverso un'associazione temporanea di scopo come il nuovo modello organizzativo a scala intercomunale. Alla presentazione che si è svolta al Parco della Scienza di Teramo è intervenuto anche il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Lennini. La riunione di oggi dei sindaci del cratere 2016 dà il via alla seconda gamba della ricostruzione, quella della rinascita economico-sociale. Abbiamo due strumenti formidabili a disposizione, conquistati con la legge di bilancio e con il PNRR. Il contratto istituzionale di sviluppo che va varato subito, entro il mese bisogna presentare i progetti, i comuni devono presentare i progetti e poi il fondo complementare per le aree colpite dal terremoto sia il 2009 che il 2016, un miliardo e 800 milioni in sei anni che rappresenteranno una risorsa straordinaria per poter finanziare, sostenere progetti di sviluppo. Anche qui occorre dinamismo, occorre progettualità, occorrono idee, occorrono progetti. Tanti fondi che arriveranno per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico abruzzese, denaro che inevitabilmente attirerà cosche e mafie. Necessaria dunque una stretta sorveglianza alla legalità. Attiviamo finalmente tutti i presidi possibili, oltre a quelli che già c'erano, intendiamoci strutture di missione del Ministero degli Interni, l'opera, l'attività preziosissima della DIA, delle Forze dell'Ordine, della Magistratura, attiviamo i controlli di legalità nei cantieri con il badge settimanale dei cantiere, una piattaforma digitale dedicata che abbiamo già predisposto e che stiamo sperimentando. Capofila della rete Unico Gran Sasso è il Comune di Crognaleto, mentre coordinatore di area vasta sarà il Comune di Teramo. Torniamo a occuparci della polemica che riguarda quella sorta di coprifuoco per i locali pescaresi. Le associazioni di categoria, Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato chiedono di incontrare i capigruppo di maggioranza per avviare un'interlocuzione che possa portare a rivedere quell'ordinanza con gli orari dei locali nella zona della cosiddetta Movida almeno entro luglio. Vediamo. Si continua a parlare di questi orari della Movida di Pescara, oggi qui in piazza, in piazza Muzzi, avete fatto una richiesta ben precisa che è rivolta al Consiglio Comunale di Pescara, soprattutto ai capigruppo dei partiti di maggioranza. Sì, assolutamente sì. Oggi abbiamo scelto insieme a Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato al CNA di chiedere pubblicamente un incontro con i capigruppo, perché? Perché l'ordinanza firmata dal Sindaco è figlia di una richiesta all'interno del Consiglio Comunale della maggioranza di determinare un orario minimo, un orario massimo di chiusura fino al 7 luglio. Non possiamo permetterci in questo momento particolare che parliamo dell'ordinanza nuova dopo 7 luglio, il 5 luglio. Quindi oggi immediatamente ci siamo organizzati noi come associazioni per chiedere questo incontro, che deve avvenire in pochi giorni, perché dobbiamo iniziare a parlare subito del dopo 7 luglio, perché le imprese non reggono economicamente le scelte fatte da questa amministrazione. Abbiamo chiesto, visto che è una linea dettata dal Consiglio Comunale, di incontrarle e soprattutto di definire subito gli orari di luglio-agosto, tenendo conto che per noi, che avevamo consegnato una proposta più di un mese fa, era un problema da non sottoporre in questo momento storico. Siamo zona bianca e abbiamo la bandiera blu, veniamo da un anno particolarissimo, per noi questa discussione si doveva affrontare a settembre. Bisognava dare la priorità esclusivamente alle attività che hanno sofferto, non solo che hanno sofferto, che hanno riaperto con i loro soldi. Forse ci siamo dimenticati che con i loro sostegni, loro sono andati avanti un mese, quindi loro li dovremmo ringraziare, sostenere, perché rappresentano al momento la più grande attrazione della città di Pescara. E se loro portano persone, si ha un indotto sul commercio del 30% superiore. Non dimentichiamocelo questo. Avete cercato nei giorni scorsi di strappare un'altra mezz'ora, di arrivare fino alle 2 e non ci siete riusciti. Non ci siamo riusciti, ripeto, ed è incomprensibile. Ricordiamoci che un'ora in più di lavoro porta circa il 30% di più di fatturato. Stiamo parlando di, quindi, discutendo di 30 minuti in un'ora a fronte di quello che è accaduto. Speriamo che il Consiglio Comunale faccia un passo indietro e si renda conto che Pescara è una città viva, che in automatico, con l'apertura di tutte le attività, il volume di persone che c'è questa zona, si distribuirà sulla riviera, il porto turistico e in tutte le altre attrazioni che attualmente sono bloccate. Ecco, da qui il movimento, come dire, l'aumento di persone che c'è in questa piazza, perché attualmente c'è solo questa piazza. Quindi noi ci auguriamo che in modo, diciamo, ma non con dei limiti, in modo naturale si distribuisca per tutta la città. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, questa mattina a Pescara l'assessorato regionale della sanità ha tenuto una conferenza stampa per sensibilizzare la cittadinanza sull'importante della donazione di sangue. Il servizio. Ogni anno, il 14 giugno, tutti i paesi nel mondo, su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, celebrano la giornata mondiale del donatore di sangue. L'evento viene promosso per ringraziare i donatori volontari per il loro regalo salva vita e per far crescere nella popolazione la consapevolezza della sempre crescente necessità di donazioni regolari con l'obiettivo di assicurare la costante disponibilità del sangue e dei medicinali plasma derivati per la cura dei pazienti che ne hanno bisogno. A Pescara questa mattina l'assessorato alla sanità ha spiegato come sia più che mai importante donare. Il bilancio del 2020 nella nostra regione ha retto all'impatto della pandemia da Covid-19 per quanto riguarda le donazioni. È stata garantita l'autosufficienza di sangue anche se è sceso il numero dei donatori. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del donatore di sangue ed è una giornata in cui tutti sono impegnati, i governi e le regioni, a celebrare questo momento proprio per richiamare l'importanza del dono del sangue e il ruolo dei donatori di sangue che grazie al loro gesto salvano le vite. Questa è una cosa fondamentale. Il bilancio dell'autosufficienza in Abruzzo in corso di pandemia è un bilancio positivo perché noi siamo riusciti a garantire i bisogni trasfusionali di tutti i nostri cittadini, di tutti i nostri pazienti. Sono state trasfuse oltre 60 mila unità di globuli rossi, sono stati prodotti e distribuiti oltre 100 mila confezioni di farmaci plasma derivati, anche questo è fondamentale per la cura di tante patologie come le immunoglobuline, l'albumina e i fattori della coagulazione e abbiamo assistito oltre 13 mila pazienti, quindi il dato è estremamente positivo. Un dato positivo, ma per chi volesse per la prima volta avvicinarsi al mondo della donazione cosa deve fare e dove deve rivolgersi? Si può rivolgere alle nostre associazioni che collaborano su tutto il territorio regionale, l'Avis, la Fidas, la Croce Rossa, l'Ado Silanciano e la Fratres e alla rete trasfusionale pubblica che è su tutto il territorio regionale. E ora allo sport, parliamo di calcio, sempre più vicina alla fumata bianca tra il Pescara e Gaetano Auteri, ormai ex allenatore del Bari, nelle prossime ore dovrebbe trovare l'accordo per la risoluzione del contratto che lo lega ancora alla società bianco-rossa di De Laurentiis per poi mettere nero su bianco l'accordo con il Delfino. Ormai sembra tutto fatto, in questa settimana saranno definiti nel dettaglio, oltre all'allenatore anche la figura del direttore sportivo con Geria che potrebbe essere promosso dal settore giovanile alla prima squadra. A Bari invece il presidente Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Ciro Polito hanno deciso l'identikit della nuova guida tecnica, si tratta di Michele Mignani ex Siena e nelle ultime due stagioni al Modena. Per il Pescara dunque comincia l'era Auteri che potrebbe arrivare anche Carlo De Risi o centrocampista che il tecnico ha già avuto con sé nelle esperienze di Catanzaro e appunto al Bari. E ora andiamo avanti con il nostro telegiornale. La giornata di ieri ha visto la promozione in serie C di tre squadre rosso-blu, Aquila-Montevarchi, Campobasso e Taranto, nel girone D manca una tra Aglianese e Fiorenzuola, ma iniziano le ipotesi soprattutto in merito alla composizione del girone centrale che dovrebbe vedere il Teramo mentre c'è da attendere per capire se ci sarà anche il Pescara. Jacopo Forcella. Le promozioni di ieri di Aquila-Montevarchi, Campobasso e Taranto nei gironi E, F ed H di serie D, iniziano a dare le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il girone B, definito centrale, della prossima Lega Pro, aspettando di capire quello che accadrà nel raggruppamento D, dove Aglianese e Fiorenzuola, a 180 minuti dalla conclusione del torneo, sono separate da un solo punto. La Toscana torna numericamente ridimensionata nella terza serie dopo le retrocessioni di Arezzo, Livorno, Lucchese e Pistoiese e con il Montevarchi che si aggiudica un girone che sembrava alla vigilia essere alla portata del Siena. Chiaramente mancano le iscrizioni in scadenza inderogabilmente il prossimo 28 giugno, qualora ci fossero dei forfè, anche il passaggio successivo che sarebbe di riempimento delle eventuali caselle vuote. Tuttavia l'Abruzzo dopo i due anni di meridione del Teramo potrebbe ritrovare coi bianco-rossi il raggruppamento B, con una sola compagine o due e ancora da determinare, perché secondo le prime stime al netto di quanto succederà dal punto di vista della burocrazia è ancora da decidere dove potrebbe finire il Pescara che balla tra B e C, ma molto dipenderà ad esempio dal posizionamento dell'Olbia, da qui alla reale composizione. Un girone, quello centrale, che a nord andrebbe fino a Reggio Emilia e Piacenza, quasi a contatto con quella Lombardia che sarà certamente la regione più rappresentata in Lega Pro nella stagione 21-22. Dunque mancherebbe solo una tra Aglianese e Fiorenzuola, poi quattro Toscane, Carrarese, Pontedera, Grosseto e Montevarchi, sei Emiliano Romagnole, Imolese, Cesena, Modena, Carpi, Reggiana e Piacenza, quattro Marchigiane, Matelica, Fermana, San Benedettese e Vispesaro, due Laziali, Viterbese e Monterosi, una Umbra, Gubbio e un Abruzzese, Teramo per l'appunto e una Sarda, l'Olbia, che però tradizionalmente spesso è inserita a nord per via dei collegamenti aerei. Poi ci sarebbe una questione ulteriore, inserire il Pescara a Meridione appesantirebbe ancora di più un girone C che già vede la presenza di tantissime piazze di grande blasone, Bari, Palermo, Foggia, Avellino, Castellammare di Stabbia, Caserta, Catania. Mettere in un raggruppamento del genere anche il Delfino renderebbe infernale il girone C e molto, troppo morbido quello centrale con un evidente squilibrio di valori, tanto da penalizzare troppo chi geograficamente si trova a qualche chilometro più a sud di qualcun'altra. Un girone C che troverà il neopromosso Campobasso, che ritrova la terza serie unica dopo oltre un tentegno e anche il Taranto. Per una definizione più certa dei gironi però servirà almeno metà del mese di luglio per vedere chi ci sarà e chi no in primis e poi per capire chi prenderà il posto degli eventuali assenti in corsa. E in serie D il Campobasso è maticamente promosso in Lega Pro, successo a Rieti per i molisani che approfittano anche del pareggio pirotecnico del Tubaldi di Recanati con il notaresco sotto due volte di due gol ma che riesce comunque a chiudere la gara sul 4-4 per il rosso-blu di Epifani adesso resta l'appendice dei play-off. Una gara infinita nella terra dell'infinito dedicata a Giacomo Leopardi. Otto reti continuano i cambi di fronte, uno girandola di emozioni ed un pari che non accontenta nessuno. In primis il notaresco che abbandona ogni sogno di gloria e il Campobasso a festeggiare il salto tra i professionisti grazie al successo ottenuto in rimonta a Rieti. Ma la squadra del presidente Di Giovanni ci ha provato fino all'ultimo e è andata per ben due volte sotto di due reti ma ha avuto la forza sempre di reagire al cospetto di una squadra ottima e con giocatori di spessore. Otto lo squalificato Scognamiglio dai marchigiani, maglia numero 9 per l'ex di turno Liguori. Mister Epifani deve rinunciare agli infortunati Bianciardi, Cancelli e Colombatti ed agli squalificati Lattarulo e Mancini. Dopo la settimana di stop rientra tra i titolari Frulla. Nella prima mezz'ora si registra un notaresco in difficoltà, non a caso al decimo c'è già il vantaggio dei Lopardiani con Grieco, abile ad anticipare tutti sul primo palo dopo un cross pennellato di Liguori. Piove sul bagnato in casa Notareschina che al diciassettesimo perde nuovamente per infortunio Banegas, il capocannoniere del girone con 16 centri. Infortunio muscolare per lui, in campo entra Marchionni. Al trentunesimo la prima vera risposta dei Rossoblu con un colpo di testa di Palumbo che termina alto di poco su imbeccata di Frulla. Liguori sulla corsia di destra vince il duello con Simoncini ed al trentatresimo è proprio lui, Lex, a raddoppiare con un tiro a giro sul secondo palo pregevole. Esultanza polemica ed ingiustificata per l'Albenze che si becca con Marchionni e con la parte di pubblico ospite. L'ultima parte di prima frazione è tutta di marca abruzzese, nello spazio di un minuto ci provano prima Di Stefano e poi Marchionni, ma l'esito è sempre lo stesso, palla sul fondo con l'occasione per il numero 7 che fa gridare al golli presenti. Nel corso del primo dei tre minuti di recupero concessi però il notaresco accorcia le distanze e tutto nasce da un'azione insistita e caparbia di a quadro che si conquista a una punizione. Dos Santos la batte velocemente beffando la difesa giallorossa, Palumbo in area fa il resto e mette dentro la sua seconda marcatura stagionale. Si va a riposo e dagli spogliatoi rientra un notaresco deciso e con un buona voglia in più al posto di Blando. Proprio il numero 29 ha un approccio ottimo al match visto che al secondo sfrutta a dovere un assist di Palumbo, ci prova due volte, miracolo di Amadio che nulla può sul tapin di testa dell'ex Primavera del Genoa. Rimonta è parità per la compagine del presidente Di Giovanni, ma l'esultanza dura pochissimo, al quinto infatti imbeccata di Grieco per sbaffo, stacco imperioso, Shiba battuto e nuovo vantaggio della Re Canatese. Che al nono cala il poker, tutto nasce da un calcio d'angolo a favore del notaresco, Togolà si invola verso la porta, salta a buona voglia e infila in uscita Shiba. Sembra finita, ma il notaresco ha la forza di buttarsi a capofitto in avanti, al 26esimo accorcia le distanze grazie ad una magia, su punizione del solito frulla, gol da vedere e rivedere. Al 40esimo, altra prodezza balistica, questa volta è a quadro a pescare l'incrocio dei pali dal limite dell'area e la rete del 4 a 4, anche se le emozioni non sono finite. Al 90esimo infatti iniziativa di Titone, con Shiba attento a neutralizzare. Sul ripiegamento di fronte, Dos Santos, servito in profondità, prova a saltare Amadio, ma si allunga il pallone che esce sul fondo. Il match si chiude al 48esimo quando viene espulso per doppia munizione Marchionni, il secondo giallo per simulazione e poi il fischio finale, a decretare un pari incredibile tra due squadre che non hanno mollato fino all'ultimo. Scendiamo in eccellenza dove il Chieti fallisce il primo matchball per tornare nella quarta serie, Nero Verdi in vantaggio nel primo tempo con Fabrizi, pareggio dell'Avezzano con Pendenza che fallisce anche un penalty e il Chieti adesso ha una nuova opportunità di centrare la promozione nella categoria superiore, mercoledì nella trasferta di Capistrello. Il Chieti non va oltre l'1-1 contro l'Avezzano e butta alle ortiche il primo match point per brindare con due turni di anticipo alla vittoria del campionato. Ora per festeggiare il ritorno in quarta serie i Nero Verdi dovranno fare il risultato pieno a Capistrello. L'atmosfera è quella dei tempi migliori con l'Angelini che torna ad ospitare il pubblico dopo mesi di partite giocate a porte chiuse. Per l'occasione presente allo stadio il sindaco del comune Tiatino Diego Ferrara, il vice sindaco dei Cesare e l'assessore allo sport Manuel Pantalone. In un pomeriggio torrido arbitra il signor Umberto Spedale di Palermo. Pronti via ed il Chieti è subito pericoloso, punizione velenosa dalla sinistra calciata da Mariani, nessun compagno di squadra però è pronto all'aviazione in rete. L'Avezzano non sta a guardare e risponde con una conclusione di Spinola dal vertice alto dell'area di rigore di Girolamo e attento e respinge con i pugni. Al ventesimo Tegola per mister Lucarelli, contrasto apparentemente innocuo tra Miocchi e Filosa ma per quest'ultimo serve l'intervento della Barella per uscire dal terreno di gioco al suo posto Lucarino. La partita cala di ritmo e di intensità e per vedere di nuovo un'azione pericolosa bisogna attendere il quarantesimo. Siragusa in area di rigore serve intelligentemente un pallone a rimorchio per Farindolini che finta la conclusione e serve Spadafora che incredibilmente a porta vuota colpisce Puglielli. Protestano i nero-verdi, oggi in completo rosso, per un falo di mano ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi, per il penalty. Dall'altra parte del campo è Besana a far venire i brividi alla retroguardia di casa ma il centrocampista bianco-verde prova la conclusione al volo che non inquadra lo specchio. Sul finale di primo tempo i padroni di casa passano a condurre. Spadafora lavora un buon pallone in area di rigore e poi serve l'inserimento di Fabrizi il quale deve solo appoggiare in rete andando poi ad esultare insieme ai suoi compagni sotto la tribuna. Nella ripresa il Chieti sembra poter gestire il risultato, anzi potrebbe anche arrotondarlo in due occasioni prima del quarto d'ora. Prima con Fabrizi, bravo a girare in torsione di testa un cross dalla sinistra, mira imprecisa la sua. Poi con Mariani, bravo a liberarsi per il tiro che risulta forte ma impreciso. Torti decide di rinforzare il suo attacco e manda in campo pendenza, sarà la mossa decisiva per il pari. Proprio l'ex attaccante del Cupello ci prova al ventesimo ma la sua conclusione salta ai riflessi di Forti che però non può nulla alla mezz'ora quando lo stesso attaccante liberato in profondità da Spinola con un sinistro chirurgico impatta il risultato sull'1-1. A questo punto il Chieti avrebbe bisogno di un gol per brindare alla D, ma non ha più le forze di reagire, anzi ad andare vicino al gol sono ancora i marsicani che si guadagnano un calcio di rigore con Ica ma pendenza dagli 11 metri colpisce il palo. Al triplice fischio finale la concomitante vittoria dell'Aquila sul Capistrello rimanda tutto a mercoledì prossimo, mentre sugli spalti e negli spogliatoi tanta delusione per l'aver rimandato una festa già pronta. E ora il calcio a 5, grande attesa per gara 2 della finale Scudetto, questa sera alle ore 21 al Pala Rigopiano il Montesilvano cercherà di vincere il suo terzo storico tricolore contro il Falconara, già battuto per 3 a 2 nella gara d'andata. Per diventare campione d'Italia il Montesilvano dovrà vincere anche questa sera, in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore. L'ipotetica a Bella è in programma in terra marchigiana domenica alle ore 20. E questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto potete recuperarli sul nostro canale YouTube o sul sito www.tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a tutti.